continuano i rumors su jedda al gf vip ma questa volta a parlare è proprio vera gemma che dice la sua sul baby fidanzato ormai lo sappiamo bene tutti che l'ex naufraga dell'isola dei famosi non le manda proprio a dire da giorni circola una voce che vedrebbe il suo fidanzato jedda tra i concorrenti del gf vip ma vera gemma ha risposto ai rumors mettendo a tacere le indiscrezioni in merito come la pensa lei appena uscita dall'isola vera aveva lasciato intendere che avrebbe ripetuto volentieri un'altra esperienza all'interno di un nuovo reality dopo pechino express l'isola dei famosi la figlia d'arte si era candidata per la casa più spiata d'italia ma a quanto pare il suo fidanzato avrebbe la precedenza inoltre l'ex naufraga ha aspirazioni ancora più alte rispetto a quelle sopracitate infatti la gemma avrebbe confessato di voler diventare una vera e propria opinionista televisiva se mi allatterebbe il salto da concorrente ad opinionista molto di più credo di meritare di fare l'opinionista in un programma ha dichiarato la showgirl ce ha poi spiegato anche il perché dalla mia o anche l'ironia che non guasta sarei perfetta come opinionista ha poi concluso la naufraga che però si espressa anche sul suo baby amore sembra che non ci sia alcuna rivalità tra i due almeno questo è quanto emerge dalle parole della donna sul caso di jedda al gf vip vera gemma ha infatti voluto dire la sua in merito alla candidatura del ragazzo per il reality ed è parsa contenta della cosa era da tempo che girava questa voce che lui potesse partecipare al grande fratello vip io gli darei lo stesso consiglio che gli ho dato quando sapevo che lui sarebbe venuto in studio per me ovvero di essere sempre se stesso senza sgomitare ha dichiarato vera per lei il ragazzo sarebbe un profilo interessante all'interno della casa anche vista quella che è la sua storia se partecipasse lui da solo ne sarei felice ha concluso vera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti